Fresco di pubblicazione su Game Pass, Lies of P è il tipo di gioco che rischia di farci sentire come marionette alla sua mercè. Eccovi quindi dei consigli su come sopravvivere alle prime difficili ore e anche oltre. Prima di analizzare nel dettaglio i livelli iniziali, chiariamo alcuni concetti di base che vi serviranno a sopravvivere a questo Souls-like steampunk. Parliamo insomma di combattimento, armi, braccia a legione e Krat stessa. Quindi, se avete già giocato la demo o ve ne intendete di Souls-like, saltate pure al momento del video visualizzato sullo schermo per sentire consigli più specifici. Siete ancora qui? Bene, meglio per voi. Se vi piacciono i Souls-like è probabile che abbiate già perfezionato l'arte della schivata inrotolata, ma purtroppo la cosa non vi tornerà molto utile in Lies of P. Certo, evitare gli attacchi è possibile, ma la cosa migliore da fare è imparare a bloccarli gli attacchi, usando la tecnica detta Guardia Perfetta. È una tecnica molto simile alla parata perfetta di Sekiro Shadows Die Twice. Premendo LB al momento giusto, bloccare costerà molta meno energia. Imparare la sequenza di attacco del nemico permette quindi a chi ha i riflessi pronti di respingere gli attacchi come fa Neo alla fine di Matrix. O quantomeno permette di provarci. Ma il bello è che eseguire un paio di Guardie Perfette contro un nemico rompe la sua arma, riducendo enormemente i danni che può infliggere. Noterete inoltre che sferrare un certo numero di attacchi entro breve tempo dopo una Guardia Perfetta rigenera salute. Insomma, in Lies of P l'attacco è spesso la migliore difesa. Come molti altri Soulslike, Lies of P mette a disposizione del giocatore un vasto arsenale di armi da cui scegliere quelle perfette per il proprio stile di gioco. Vale la pena collaudare diversi tipi di armi leggere e pesanti per decidere se preferite punzecchiare il nemico a morte o struncarlo con un colpo secco. Ma l'aspetto più interessante del sistema delle armi di Lies of P è la possibilità di forgiarne di nuove combinando lame e impugnature diverse. A ognuno di questi componenti sono associate delle abilità, dette Arti della Favola, che offrono una vasta gamma di fantastici potenziamenti per le situazioni più svariate. L'impugnatura dello spadone del destino, per esempio, permette di bloccare temporaneamente tutti gli attacchi in arrivo, ed è quindi perfetta quando un boss ha una combo di attacchi che vi becca ogni volta. La lama dell'Ascia dei pompieri ha invece un ottimo attacco a fendente, perfetto per affettare a morte i nemici. Ma qualunque arma scegliate, non dimenticate di usare la mola con X tra un combattimento e l'altro per mantenerne il filo e quindi l'efficacia. Un'altra peculiarità di Lies of P sono le braccia a legione, o i bracci a legione. Insomma, pratici accessori che permettono di dare la scossa ai nemici, o anche semplicemente di dargliele di santa ragione. Una volta che avrete messo insieme una bella collezione di braccia a legione, vi consigliamo di avvicendarle spesso a seconda delle situazioni. Prendete, per esempio, la classica situazione da Soulslike. State cercando di tornare da un boss dopo essere riapparsi al checkpoint, ma ogni volta venite assaliti da orde di nemici? Usate il braccio a filo del burattino per trascinarli verso di voi e affrontarli ad uno ad uno, in modo di arrivare in condizioni migliori al combattimento importante. è obbligatorio urlare Vieni da mamma ogni volta che lo fate. Esplorare il mondo di Lies of P è già di per sé gratificante grazie alla sua cupa atmosfera da belle poche, ma conviene anche da altri punti di vista. Setacciare ogni angolino vi premierà con pietre lunari con cui potenziare le vostre armi. Nelle sole aree iniziali troverete pietre lunari a sufficienza per portare un'arma a più due. Questi sono proprio i numeri che piacciono a noi di Xbox Italia, quindi guardate anche la seconda parte del video per scoprire dove si nascondono queste pietre lunari. Un'altra risorsa da tenere sott'occhio è il quarzo. Ogni volta che ci mettete sopra le vostre manine da marionetta, correte da Geppetto all'Hotel Krat e migliorate il vostro Organo P, che a sua volta potenzia le abilità di Pinocchio. Se il crudele mondo dei Souls-like vi è nuovo e arrancate un po', questi miglioramenti possono fare la differenza. Provate ad aumentare il numero di celle a impulso a vostra disposizione per guarire più spesso e sopravvivere più a lungo. Imparare queste meccaniche di base è sicuramente utile, ma l'Is of P è pur sempre un Souls-like, ed è quindi ben disposto a mandarvi al tappeto fin da subito, come saprà chiunque abbia provato la demo. Eccovi quindi dei consigli più specifici per aiutarvi a salvare la pelle a Pinocchio nella prima parte del gioco. Per esempio, niente coccole al gatto. Una delle prime decisioni da prendere, in qualsiasi RPG d'azione, Souls-like o meno, è quella sulle abilità a cui dare la precedenza quando si sale di livello. Come abbiamo già detto, l'Organo P offre tantissimi modi di potenziare le abilità di Pinocchio in cambio di quarzo, ma potete anche usare l'Ergo ottenuto per migliorare i 6 parametri principali del personaggio. La vitalità è la salute, il vigore è l'energia e la capacità indica il peso massimo che potete trasportare senza penalità. Insomma, cose standard da RPG che potete gestire come meglio credete. Poi c'è sviluppo, che potenzia le braccia a legione e gli oggetti lanciabili, e anche qui sta a voi scegliere quanto potenziarlo. Gli ultimi due sono parametri che vi consigliamo di prendere in considerazione fin da subito, perché sono strettamente legati al tipo di arma che volete utilizzare. Le armi più pesanti, come gli spadoni, scalano con forza motrice, mentre gli stocchi o altre armi leggere scalano con tecnica, quindi vale la pena decidere presto a quale dare la priorità invece di disperdere l'Ergo a vostra disposizione. Se questo sistema vi sembra un po' restrittivo, non preoccupatevi, potete modificare qualsiasi arma con la manovella giusta. Ad esempio, è possibile legare un'arma pesante alla propria forza motrice, alterandone l'impugnatura con una manovella della forza motrice, mentre esplorate non perdetevi le manovelle e non preoccupatevi troppo di eventuali scelte sbagliate, potete sempre usare una manovella dell'equilibrio per ripristinare le caratteristiche originarie dell'arma. Una volta sconfitto il boss, chiamato Fuoco, Fiamma del Re, potrete acquistare una manovella per tipo da Pulcinella, così facendo un nuovo mondo di migliorie e modifiche vi si spalancherà davanti. Come spiegato in precedenza, vale davvero la pena dedicarsi alla raccolta di tutte le pietre lunari nascoste nelle prime aree del gioco per potenziare il più possibile l'arsenale. Quando inizieremo a parlare dei boss che vi aspettano, capirete perché. La prima si trova davanti all'Hotel Krat, sulla destra. È lì in bella vista e sinceramente non la definirei proprio nascosta. La seconda è all'inizio di Viale Elisio. Trovate il cartello con la scritta Clemens e salite la scala Pioli di fianco. Una volta in cima, salite il percorso fino alla fine e attraversate la passerella per raggiungere il tetto opposto. Lì troverete un'altra scala con cui scendere di nuovo in strada. La pietra lunare vi aspetta lì sulla destra. Ce ne sono altre tre da scovare nella casa di Viale Elisio. Vicino allo Stargazer c'è un'altra passerella, ma se invece di attraversarla saltate giù o cadete, di proposito, troverete un'area che contiene due pietre lunari e un sacco di nemici. Non si può avere tutto. Troverete la terza pietra di Viale Elisio tornando alla passerella. Invece di attraversarla, girate a destra e seguite il percorso finché non trovate una farfalla rossa. Ammazzatela e la pietra lunare sarà vostra. La sezione inclusa nella demo contiene un'altra pietra lunare nascosta, ma per ottenerla vi basterà a sconfiggere il secondo boss del gioco, Asino Furioso, il che è più facile a dirsi che a farsi. Come ogni soulslike che si rispetti, Lies of P getta subito il giocatore in pasto a boss difficilissimi. È un gioco impietoso, ma noi invece siamo clementi, quindi abbiamo degli appositi consigli per voi. Il maestro della sfilata è il boss della stazione centrale di Krat, quindi lo incontrerete molto presto, anzi, più presto di quanto vogliate. Il trucco per sconfiggerlo è mantenere le distanze finché non esegue il suo attacco in scatto. A quel punto correte gli incontro e schivate il fendente o l'affondo successivo e poi sferrate una bella combo d'attacco. Dopodiché allontanatevi subito per evitare la sua mossa successiva. Tenete presente che la sua arma ha una portata maggiore durante la seconda fase, quindi dovrete mettervi al sicuro in fretta. Tocca poi ad Asino Furioso, che se ne sta in agguato in Viale Lisio per farvi fare una figura da somari. Furioso di nome, di fatto, questo boss brandisce l'arma come un pazzo, quindi conviene aspettare che sferri un fendente particolarmente incauto, come il suo lentissimo attacco discendente, e tuffarsi in un attacco fatale posteriore. L'ultimo boss che affronterete nella demo è la Sentinella Rottamata, che altro non è che una versione gigantesca dei burattini poliziotti che avete affrontato finora. La differenza sostanziale è che i suoi attacchi sono più pesanti e infliggono anche danni elettrici, quindi fate attenzione. Per entrare in azione è meglio aspettare che concluda il suo attacco con salto. Riuscirete a mandare a segno 4 o 5 attacchi prima che si riprenda. Nella seconda fase la Sentinella diventa completamente elettrizzata, quindi tenete d'occhio eventuali scintille per terra, indicano che a quel punto sta per essere fulminato. E sapete cosa succede quando una marionetta viene fulminata? La stessa cosa che succede a tutti. Chi ha giocato solo alla demo non ha ancora incontrato fuoco, fiamma del re. E visto che con lui non si scherza, ecco come evitare che vada tutto in fumo. A volte, gli attacchi in mischia di fuoco abbattono le grosse tubature presenti nella stanza, che sono ottime per mettersi al riparo dai suoi tremendi attacchi ad aria. Durante la seconda fase del combattimento, fuoco inizierà a lanciarvi contro palle di fuoco e petrolio. Ricordatevi che il petrolio rimarrà sul pavimento, e se uno degli attacchi di fuoco gli dà, beh, fuoco, vi infliggerà danni enormi. Occhio a dove mettete i piedi. Quello di Lies of P è un mondo bello ma crudele anche per chi ha il sangue freddo, e speriamo che questi suggerimenti vi aiutino a godervi questa nuova avventura su Game Pass. Se avete altri consigli, scriveteli pure nei commenti. Ciao!